È previsto il prossimo 30 ottobre alle ore 16 il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione presso l'Aula Consiliare Agropolese. I seguenti argomenti che saranno trattati all'ordine del giorno sono l'approvazione dei verbali della seduta del 16 ottobre 2020 dal numero 68 al numero 70, il bilancio armonizzato 2020-2022 e nota di aggiornamento DUP 2020-2022, riconoscimento debiti fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A del DLGS 267-2000, riconoscimento azienda speciale Agropoli Cilento Servizi, piano programma 2020-2022, azienda speciale Agropoli Cilento Servizi, presa d'atto e approvazione bilancio d'esercizio 2019, approvazione e regolamento per il controllo analogo sulla società in house, providing e sulle aziende speciali. Qualora tale seduta dovesse andare deserta, il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli il giorno 31 ottobre alle ore 16 per discutere dello stesso ordine del giorno.